L'incidente nella serata di giovedì 2 novembre intorno alle 18 in via Vassallo a Levone, un furgone proveniente dal centro di Levone che viaggiava in direzione Rocca Canavese è uscito di strada, ha divelto un muretto di cemento e dopo aver colpito un palo telefonico tranciando nei cavi si è fermato a lato careggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Nole, i carabinieri di Mati e il sindaco di Levone Massimiliano Gagnor. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il palo, il conducente ha riportato solo alcune contusioni e dopo le prime cure è stato trasportato dalla Croce Rossa in ospedale per accertamenti in sinistro al vaglio dei carabinieri. Grazie. Grazie.